Nell'ambito delle attività di orientamento che nel secondo quadrimestre sono rivolte all'uscita, cioè gli studenti del quinto anno per la scelta dell'università, abbiamo pensato, oltre agli incontri che tipicamente vengono fatti con gli Atenei, abbiamo pensato di fare un orientamento utilizzando nostri ex studenti provenienti da tutti gli indirizzi del nostro istituto, quindi aeronautica, elettrotecnica, meccanica, informatica e liceo, nostri ex studenti che hanno intrapreso a suo tempo la laurea in ingegneria e che oggi hanno già accumulato una esperienza professionale significativa, in modo da poter inserire tra gli studenti e i testimoni di questa giornata il minor numero di anni, quindi avere una comunicazione più vicina alla loro e poter trasferire quelli che noi consideriamo gli stimoli necessari per fare una scelta. Noi oggi abbiamo così una falsa immagine dei nostri giovani, diciamo pigri, non validi, io penso che ogni generazione abbia i suoi giovani che sono il frutto dell'evoluzione, i nostri giovani probabilmente sono carenti negli stimoli e quindi proporre delle carriere d'avanguardia, d'eccellenza, che siamo riusciti a raggruppare ben 8-9 esperienze da tutti i settori, meccanico, elettrico e anche differenziando le attività, cioè attività di progettazione piuttosto che commerciali, fino ad arrivare addirittura in un caso attività di ricerca. Da tutte queste esperienze e dai consigli di questi ex studenti speriamo che i nostri possano avere stimolo e in questa idea abbiamo anche, diciamo, aggiunto una piccola modifica alla normale attività. Cosa intendo dire? Normalmente facciamo l'output per i ragazzi della quinta, del quinto anno, che in questi giorni hanno proprio saputo come sarà il loro esame. Che cosa succede? Che in questi pochi mesi che li dividono dall'esame sono assolutamente travolti in termini di attenzione, di apprensione dall'esame. Certo, ascoltano quello che gli si dice, però probabilmente non rimane completamente. Abbiamo deciso quest'anno di fare questa attività rivolta anche agli studenti delle classi quarte, che hanno davanti il completamento ovviamente del quarto anno, ma potranno sedimentare durante l'estate le cose che gli abbiamo detto. Tutte le relazioni sono a disposizione anche, diciamo, al di là di questa giornata. E quindi speriamo che nell'estate possa maturare quello stimolo a impegnarsi nello studio non tanto per superare interrogazioni piuttosto che le verifiche scritte, ma per ottenere il massimo voto possibile e poter fare poi una scelta consapevole del futuro, facendo diciamo la scelta migliore. Quindi speriamo che i nostri uniti della quarta possano fare una buona scelta e magari tra qualche anno avere qualcuno degli studenti che hanno presenziato oggi come testimone futuro, nuovo ingegnere per i nostri studenti del futuro.